Controlli sulla sicurezza alimentare sono stati eseguiti dai carabinieri del NAS tra Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, multe e sigilli a otto negozi. L'attività di controllo e contrasto alle attività illecite è inserita nel programma avviato dall'inizio del 2022 dai carabinieri del NAS di Ragusa sui distretti di competenza ed ha consentito di riscontrare numerose carenze e violazioni sia di carattere amministrativo che penale. In totale sono state effettuate 133 ispezioni che hanno consentito di rilevare 14 violazioni penali, 70 illeciti amministrativi, 10 soggetti segnalati alla magistratura, 41 alle autorità sanitarie ed amministrative, nonché la chiusura di otto strutture, di cui quattro sanitarie e tre ristorative, per un valore complessivo di 1.600.000 euro ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 109.300 euro. Nel Nisseno una struttura socioassistenziale per disabili psichici è stata sanzionata amministrativamente per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate all'interno dei locali adibiti alla manipolazione, preparazione e trasformazione di alimenti. Significativa è l'operazione eseguita presso una casa di riposo ubicata sul territorio modicano che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 81 confezioni di specialità medicinali scadute di validità e destinate ad essere somministrate agli anziani ospiti. Il titolare per tale violazione è stato segnalato all'autorità giudiziaria competente.